Un diritto essere figlio, un privilegio meraviglioso essere genitore, l'adozione, una porta spalancata all'accoglienza, l'amore incondizionato e alla vita. Sabato 9 aprile a Lecce il convegno organizzato dall'Associazione AIB e la Pietra Scartata, in collaborazione con l'Arci Diocesi del Capologo Salentino e con il patrocinio del Comune. Parlare quindi del connubio inscindibile tra accoglienza e spiritualità, un momento di riflessione e confronto a più voci. Abbiamo questo convegno domani 9 aprile a Lecce, presso la parrocchia di San Giovanni Battista, siamo nella zona di Via del Mare, ed è il primo convegno su spiritualità e adozione in Salento. Di che cosa ci occuperemo, di che cosa ci vogliamo occupare? Vogliamo dare uno sguardo privilegiato all'adozione, all'adozione internazionale in particolare, sotto più luce e più punti di vista. Quindi l'intervento di Marco Griffini, presidente di AIB Amici dei Bambini, che parlerà della spiritualità dell'adozione, dell'accoglienza di un bambino abbandonato nel nome di Gesù. Avremo l'intervento dell'Arcivescovo di Lecce, che si occuperà della figura di Giuseppe, quindi della famiglia di Nazareth, e come la famiglia di Nazareth può essere esempio per tutte le famiglie cristiane che intendono accogliere un bambino abbandonato. Ma non mancheranno sicuramente gli interventi qualificati delle istituzioni, a partire dall'assessore al Comune di Lecce, assessore al welfare, che darà appunto il taglio pratico su come l'ente locale si interfaccia e si pone in relazione appunto all'adozione, all'adozione internazionale. Un magistrato del Tribunale per i minori di Lecce, il suo punto di vista sarà appunto quello dell'adozione, visto dal Tribunale che è l'istituzione qualificata per il rilascio del decreto di idoneità per le coppie che intendono adottare. E infine l'intervento anche dell'Asl Lecce 1, quindi di un assistente sociale dell'Asl Lecce 1, che invece ci darà il suo punto di vista appunto circa l'accoglienza delle coppie che intendono affacciarsi all'adozione. E nel pomeriggio il rito di benedizione delle adozioni per celebrare comunitariamente davanti al Signore la bellezza dell'aprirsi all'altro. Alle 17 ci sarà un momento bellissimo, invitiamo la cittadinanza a partecipare perché presso la parrocchia di San Giovanni Battista avremo per la prima volta la benedizione delle adozioni, quindi l'assistente spirituale Don Gerardo appunto benedirà tutti i bambini e tutte le famiglie che nell'ultimo anno hanno adottato, le famiglie ovviamente salentine, e quindi ci sarà questo bellissimo momento di accoglienza.